S.O.S. cercasi locali, quindi non un S.O.S. siamo in emergenza, non riusciamo ad accoglierli. E' sotto gli occhi di tutti, gli arrivi dei migranti dallo spot in Lampedusa sono incessanti, i numeri pur esigui richiedono la disponibilità di chiunque in provincia. Per stasera a mezzanotte è atteso un minore non accompagnato che sarà accolto dal comune di Santa Giustina e probabilmente sarà sistemato nella struttura della diocesi a Colcumano. Quando sono arrivato davamo accoglienza a 200 persone, oggi diamo accoglienza a 400 persone. Il mio obiettivo è arrivare a breve termine a dare accoglienza a 450, a medio termine a 500. Pur non volendo allestire Tendopoli, il prefetto, previa autorizzazione del Dipartimento di Protezione Civile, ha chiesto ai vigili del fuoco la disponibilità di 30 brandine che sono arrivate ma non trovano una collocazione idonea. Mi sembra veramente un peccato di Dio non riuscire a trovare una struttura, un'ex scuola, un deposito dove poterle collocare. Esclusa l'ex scuola di Orzessa a Belluno che necessita di lavori idraulici, la cooperativa integra ha manifestato interesse ma al momento la disponibilità resta in fieri. Qualche appartamento è stato recuperato fra Belluno, Santa Giustina, Soverzene, Ponte nelle Alpi. Resta da risolvere al più presto il nodo dei minori non accompagnati, ce ne sono al momento 14 in provincia. Nessuno viene lasciato a se stesso, afferma il prefetto. Ho anche scritto a tutti e 61 i sindaci chiedendo di poter accoglierne uno a testa, 61 comuni, 61 migranti. Faremo di tutto dopo averli salvati in mare per salvarli in terra, cioè per non lasciarli indifesi, incustoditi.